Luca, hai masso, ho ritornato alla terra dopo diversi anni di assenza, vuoi un po' per dovere, vuoi un po' per necessità, sono ritornato in campagna e ho deciso di continuare, continuare questa tradizione che sicuramente è una cosa che ho sempre avuto dentro, mi sono sempre comunque sentito ancora sempre molto campagnin, come diciamo noi, perché fratello è in masso? Io sono figlio unico intanto, perché purtroppo i miei, vedendo me probabilmente hanno deciso di non proseguire, non so se sia stato un bene o un male, comunque ho tenuto il nome dell'azienda Fratelli Masso perché la vera azienda l'hanno fondata il mio padre e mio padrino e negli anni l'hanno portata avanti, infatti c'è una divisione abbastanza netta della cosa, mio padrino segue tutta la campagna e io seguo tutta la parte di vinificazione, di vendita e di marketing del vino. Ad oggi sono contento perché ho oltre il dolcetto, che era l'unico prodotto presente in azienda, ho creato, creato e sbagliato perché non l'ho creato, semplicemente ho cominciato a vinificare sia la Barbera che il Nebbiolo, che mi danno dei buonissimi risultati tra l'altro. Però il mio prodotto di punta rimane e rimarrà sempre il dolcetto. Questa è la vigna del Brick che ho dato i Natali appunto al Diano d'Alba Superiore Pietro 2014. Oltre appunto alla vigna abbiamo seguito un processo di vinificazione diverso che ha fatto sì che il vino si esprimesse nella sua maggiore potenza. Allora, superiore perché è fatto con una selezione, che in questo caso è la vigna del Brick, dove noi diradiamo, ovvero prima della vendemmia passiamo all'interno dei vigneti e togliamo alcuni grappoli. Perché? Facciamo questo per diminuire la resa, che già come disciplinare del Diano di OCG è inferiore a quella del dolcetto normale, ma in questo caso con il Pietro 2014 l'abbiamo ancora ridotta e abbiamo seguito anche un processo di vinificazione diverso dal solito. Così abbiamo, siamo riusciti a creare questa diciamo questa chicca, ok? Chiamiamola chicca. Allora, Fratelli di Masso è una produzione molto piccola, noi potremo vinificare all'incirca 50.000 bottiglie, per il momento non vinifichiamo ancora tutto in bottiglia, ma raggiungiamo le 15-20.000 bottiglie anno, tra i vari vini appunto, Dolcetto Barbera Nebbiolo e Nebbiolo do Barolo. La decisione di tenere bassa la produzione è anche per dare una certa qualità, perché comunque facendo poca quantità la qualità è sempre esaltata, ma questo non perché non vogliamo fare grandi numeri o fare comunque un'elevata quantità, perché ci teniamo alla qualità, abbiamo bisogno di fare qualità anche perché oggi se ci vuole, anche perché oggi se vogliamo distinguerci un po' da tutti, diciamo, da tutta la massa, dobbiamo per forza fare qualità. È l'unico plus che possiamo offrire alla clientela, qualità e nient'altro. Grazie. 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 Grazie.